C'è ancora tempo per poter acquistare dei farmaci da donare a chi ha più bisogno nelle farmaci aderenti al progetto. In occasione della 22esima giornata di raccolta del farmaco, un'iniziativa del Banco Farmaceutico che rivolge ogni anno l'attenzione verso un'associazione presente sul territorio e che sostiene le fasce più deboli. Dall'8 al 14 febbraio tutti i farmaci raccolti saranno destinati all'Associazione Sant'Agata. Il Banco Farmaceutico nasce in Italia più di 20 anni fa per venire incontro alle necessità di farmaci per le persone in difficoltà e dopo la prima giornata di raccolta del farmaco organizzata a Milano l'attività si è stesa in tutto il paese e non solo, sostenendo negli anni anche altri progetti come il recupero di farmaci validi non scaduti, l'osservatorio sulla povertà sanitaria o ancora durante la pandemia il rifornimento di medicinali attrezzature per medici e infermieri che operano negli ospedali e nelle strutture sanitarie. I farmaci sono i farmaci da banco, quindi quelli che possono acquistare chiunque va in farmacia o in parafarmacia perché anche le parafarmacie possono essere convenzionate. Diciamo che la finalità principe del banco è prima, è l'assistenza alle persone meno abbienti che possibilmente non possono pagarsi il farmaco, anche un analgesico, un paracetamolo, insomma la qualunque cosa che possa essere venduta da banco che non possono pagare, il banco con questa iniziativa riesce a supplire in minima parte a quando è a dare dei ristori a queste persone bisognose. L'attività di solidarietà viene svolta anche nel resto della provincia grazie alla collaborazione di farmacisti, volontari e realtà locali coinvolte come i Lions Club. Mi stanno dando a me gli altri anni aiuto, non solo qua, a Giela mi stanno collaborando i Lions e i Leo e poi come sono strutturati loro una rete capillare sul territorio e quindi riescono a intercettare tutte le associazioni che hanno bisogno del nostro aiuto. Siamo veramente lusingati dal fatto che hanno pensato a noi, ai bisogni che noi raccogliamo di quella che è la zona più bisognosa della nostra città. Come ben sapete, perché tanti di voi già ci conoscono, noi raccogliamo l'utenza del centro storico e non solo e in questo momento abbiamo dovuto provvedere anche a raccogliere e distribuire farmaci di primissimo soccorso e che hanno un costo notevole e quindi la gente che già non riesce a provvedere al cibo e all'essenziale, figuriamoci se può acquistare uno sciroppo per la tosse piuttosto che un antipiretico. Quindi noi abbiamo provveduto con grande fatica e questa ci è sembrata l'ennesima prova della provvidenza divina per la nostra attività.